A Sondrio è alta la febbre del gioco. Lo rivela l'indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore che ha elaborato i dati dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli relativi al 2017. Un fenomeno purtroppo non inedito perché la diffusione della ludopatia in Valtellina e Valchiavenna era stata già certificata da diversi studi e indagini. La provincia risulta al quinto posto in Italia, seconda in Lombardia dietro Como, nella classifica sulla più alta spesa pro cabite nel gioco d'azzardo guidata da Prato con 672 euro. Tra videolotteries, slot, bingo, gratta e vinci, scommesse sportive, lotto, super enalotto e lotterie varie, ogni anno un cittadino della provincia di Sondrio spende 460 euro, molto più della media nazionale che è di 345. Ma attenzione, questo non è quello che in assoluto si gioca, ma solo quello che effettivamente ci si rimette a testa nel saldo tra somma giocata e somma vinta. L'importo infatti viene calcolato al netto delle vincite e prendendo in esame la sola popolazione maggiorenne che per legge ha accesso al gioco. Centinaia di milioni di euro in somma ogni anno in provincia di Sondrio se ne vanno in fumo a causa di questo vizio. I tre quarti spesi nei bar e nelle sale da gioco apposite, mentre il gettito per l'erario è calcolato in 38 milioni. L'ECCO invece è la più virtuosa della Lombardia col dato più basso risultando solo 58esima in Italia con 327 euro di spesa annua pro capite, gettito all'erario 61 milioni e mezzo, a riprova di come l'attenzione delle amministrazioni pubbliche in città e sul territorio lecchese e le numerose azioni di sensibilizzazione sociale e culturale alla piaga della ludopatia svolte nel corso degli anni qualche risultato l'hanno prodotto. Solo nel 2018 invece il comune di Sondrio si è dotato di un regolamento per la prevenzione ed il contrasto del gioco d'azzardo patologico, basato in buona parte sulla normativa vigente che stabilisce gli orari di apertura delle sale e la distanza dei luoghi sensibili frequentati da minori. Sul territorio da tempo è in atto il progetto Insieme contro l'azzardo finanziato dalla regione e coordinato dalla cooperativa lotta contro l'emarginazione, capofila a Chiavenna, cui hanno aderito una quindicina di comuni, la provincia di Sondrio, quattro comunità montane, ATS e AST, privato sociale e associazioni. Ultimo comune a dichiarare guerra alle slot machine, madesimo. La lettura di cifre e statistiche spesso è contraddittoria. Secondo i dati dell'inchiesta sul gioco d'azzardo di Visual Lab, il laboratorio digitale del gruppo Gedi, Forcola è addirittura al secondo posto tra gli 8.000 comuni italiani nella classifica generale per giocate pro capite, mentre Andalo Valtellino è sesta.